Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale una brutta vicenda, si è verificata proprio su una nave da crociera. Da quanto appreso tutto è successo in pochissimi istanti. Infatti un bambino che era in crociera con la sua figlia è deceduto durante il viaggio. Non si è trattato del solito malore ma di qualcosa di ancora più serio. Un sinistro che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il bambino, 12 anni, stava facendo una crociera ai Caraibi anche in occasione del suo compleanno. Un regalo che la famiglia aveva voluto fare anche al piccolo. Purtroppo le cose non sono andate come previsto e il bambino è deceduto a causa di una caduta. I testimoni hanno affermato che il piccolo stesse giocando con altri bambini quando all'improvviso è caduto dal quattordicesimo piano della nave andandosi a schiantare di sotto. Per lui non vi è stato nulla da fare. Non riesco a esprimere quanto abbia significato per me e la mia famiglia vedere così tanti sconosciuti venire ad aiutarci. Così ha scritto la madre del bambino in una nota ringraziando chi quel giorno ha aiutato o cercato di aiutare il figlioletto.